E davvero non mi aspettavo una partecipazione così numerosa, ma soprattutto così raccolta, insieme si percepiva che si vuole camminare insieme, si vuole pregare insieme, ma anche credo si vuole riflettere insieme perché è un momento importante che dobbiamo scoprire sempre di più il vero significato della risurrezione. Non è un evento tradizionale, non è un'esperienza del passato, non è un rito, ma è la certezza che il risorto continua e vuole continuare a camminare con noi. Credo che questa rappresenta i giovani non deve sorprendersi, io sono convinto che i nostri giovani sono più intelligenti di quanto pensiamo, sono una ricerca di nuove motivazioni per vivere. Hanno scoprendo che tante proposte si stanno rinverando insufficiente e quindi la presenza dei giovani è il segno che noi siamo chiamati a dare risposte significative perché possono costruire un futuro migliore. Anche quest'anno si conferma un momento importantissimo per la nostra comunità, tradizione ma anche capacità di rinnovarsi con tante presenze, tanti ragazzi, tanti bambini che hanno partecipato questa notte a questo evento che appartiene al cuore della nostra città, alla nostra anima, attraversare le vie con la Madonna che cerca il figlio è anche un messaggio che ci consente dal punto di vista laico e civile di lavorare per riscoprire sempre la nostra identità, ciò che ci lega al nostro territorio e quindi vivere insieme questo percorso di rinascita.